Il Tar della Toscana ha respinto l'istanza cautelare per l'annullamento del provvedimento con cui è stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione della nuova sede del comando della Polizia Locale di Arezzo. L'istanza era stata presentata dalla ditta Subissati SRL. Secondo il Tar non sussistono carenze nei documenti progettuali prodotti dalla società che si è aggiudicata la gara d'appalto, questo in considerazione del fatto che il preliminare a base di gara conteneva una relazione di fattibilità e quindi anche le relazioni geologiche e geotecniche allegate. Non è quindi necessaria la verifica delle fondazioni per la parte non oggetto di demolizione sulla base di quanto previsto dal progetto della stazione appaltante. In attesa dell'udienza di merito fissata per il 4 dicembre, il sindaco Alessandro Ghinelli commenta così I ritardi accumulati fino ad oggi sono la conseguenza di procedure burocratiche complesse, di ricorsi poco credibili, utili solo a far perdere tempo, un'amministrazione efficace ed efficiente che si muove nell'alvio di procedure corrette, trasparenti, oltre che nel massimo rispetto dell'operato della magistratura. Il rigetto odierno della sospensiva, dice Ghinelli, ce lo conferma, quindi avanti tutta. Nei mesi scorsi si era mossa anche l'opposizione chiamando in causa la Corte dei Conti.